La battaglia per la salvaguardia di Unica Beach e la spiaggia di Giulianova dedicata agli animali domestici si intensifica. La responsabile Giussi Branella, sostenuta da oltre 700 cittadini che hanno firmato la sua petizione per chiedere una concessione pluriennale, ha lanciato un nuovo appello al sindaco e alla giunta comunale per avviare immediatamente l'istruttore sulla petizione presentata, questo indipendentemente dalle imminenti elezioni amministrative che interesseranno anche il comune costiero. Ancora non ci fa sapere niente, doveva farlo entro 15 giorni, quindi entro domani. Io ho scritto una lettera aperta al sindaco che è quello che deve dare avvio all'istruttoria, che è indispensabile per poterla discutere in consiglio comunale. Ovviamente andrà alla prossima amministrazione, però l'iter deve partire adesso. La raccolta firme è mirata a fare in modo che l'amministrazione decida definitivamente e per più anni l'ubicazione della spiaggia, mentre loro nel pieno spiaggia avrebbero deciso di cambiarla ogni anno. E questo non sta bene né a me né ai cittadini. I firmatari esprimono il loro malcontento verso quella che percepiscono come una persecuzione da parte dell'amministrazione Costantini. Nei confronti dell'associazione, se entro la giornata di domani non dovesse arrivare una risposta da parte del comune, la presidente Branella ha annunciato che continuerà la sua battaglia. Significa che sta violando il regolamento comunale per la democrazia partecipata. Ovviamente avrà delle conseguenze questo comportamento perché io non lascerò perdere. Ricordiamo che la spiaggia per Cani, da sei anni gestita dall'associazione Unica Beach, è diventata un servizio apprezzato sia dai turisti che dai residenti, ma anche dagli operatori delle strutture ricettive locali. Attrae molto, c'è adesso un lavoro fatto in rete che sto appunto promuovendo sui social di collaborazione con altre attività che offrono servizi al pet e quindi i turisti che arriveranno in Abruzzo potranno tramite Unica Beach avere informazioni su tutto quello che riguarda le esigenze del proprio cane, dal pronto soccorso veterinario alle attività cinofile, educatori cinofili e dog sitter e anche attività pet friendly come bar, ristoranti e qualsiasi altra struttura che li possa accogliere oltre agli alberghi eccetera.